L'Europa dell'Est guarda con preoccupazione ai sviluppi della crisi ucraina. La politica aggressiva di Mosca è stata al centro dell'incontro dei ministri degli esteri del gruppo Visegrad, composto da Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca, con il collega tedesco Frank-Walter Stenmaier. Berlino ha garantito che l'Unione Europea non starà a guardare se Mosca non cambierà posizione sulla Crimea. Se insisteranno sulla strada del referendum, non avremo altra scelta. Dobbiamo e decideremo di imporre sanzioni alla Russia. Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia sentono l'urgenza di ridurre la loro dipendenza di gas da Mosca e hanno annunciato di aver chiesto agli Stati Uniti il via libera per esportare gas nel vecchio continente. I cinque ministri degli esteri non hanno dato risposte concrete riguardo a possibili sanzioni contro la Russia. Hanno rinviato ogni decisione a dopo il referendum sulla secessione della Crimea lunedì prossimo a Berlino. Berlino ben dönthetne. Hajagos Andrea, Euronews, Budapest.